Ciao a tutti amici di Tecnologia Su Misura Ci ritroviamo in questo nuovo episodio della serie Informatica in pillole per approfondire il concetto di NAT ovvero Network Address Translation Prima di proseguire ci tengo a sottolineare che nel corso di questa puntata si farà riferimento a contenuti presenti nel video come funziona internet pubblicato precedentemente a questo Per cominciare a introdurre il concetto di NAT è importante ricordare i limiti del protocollo di rete IPv4 Infatti questo protocollo non permette di identificare un numero superiore ai 4 miliardi di host molto pochi se ogni persona dovesse connettere pubblicamente ogni dispositivo di cui è in possesso. Ma allora come fa a funzionare internet basandosi su un protocollo IPv4? Per risolvere il problema è possibile optare fra due approcci differenti Sostanzialmente o si sceglie di implementare un protocollo IP più evoluto come IPv6 oppure si sceglie di rattoppare il problema introducendo il NAT Per motivi economici si è scelto di adottare il NAT per il semplice motivo che per i colossi in possesso di molti IP pubblici non è conveniente aggiornare ai IPv6 i loro servizi e le loro piattaforme Comunque sinteticamente il NAT permette di diminuire radicalmente il numero di IP pubblici necessari per far connettere in rete tutti i dispositivi esistenti Vediamo come avviene questo Innanzitutto tutti i dispositivi di una rete locale vengono mascherati da un router abilitato NAT così da essere visti come un unico apparecchio all'interno della rete privata del nostro internet provider In secondo luogo quando un dispositivo della rete locale manda un messaggio al router NAT per contattare un server viene registrata una voce in una particolare tabella detta di traduzione in cui vengono associati i IP locale del dispositivo la porta di uscita del dispositivo l'IP pubblico di uscita che è messo a disposizione naturalmente dall'ISP e il numero di porta di uscita quindi quando il server verrà contattato dal nostro messaggio in realtà vedrà unicamente l'IP pubblico di uscita dal router NAT e poi associato naturalmente alla porta relativa Essendo il numero di porta un valore a 16 bit è possibile per il nostro internet service provider gestire fino a 65.536 connessioni simultanee impegnando un singolo IP pubblico e quindi è un netto risparmio Da notare che però le voci nella tabella sono solo temporanee e vengono eliminate quando le connessioni non sono più attive per poi essere sostituite da altre connessioni Quindi una fonte esterna può contattare l'host di una rete locale fin tanto che l'associazione in tabella non viene modificata Questa proprietà del NAT impedisce di creare server persistenti al di fuori della propria rete locale Per rendere un dispositivo pubblicamente accessibile e quindi utilizzarlo come server dobbiamo istruire appositamente il router NAT in modo tale che l'associazione nella tabella resti permanente e quindi ci permetta di effettuare il raggiungimento del nostro server all'interno della rete locale anche dall'esterno rispetto ad essa In questo modo si sarà in grado quindi di impostare una grande multitudine di servizi remoti ad esempio telecamere di videosorveglianza potremmo creare una cloud privata oppure servizi di domotica sempre remota per controllare a distanza le funzioni della nostra casa Eventualmente dopo aver fatto tutto questo potremmo anche abbinare l'IP e la porta in uscita a un nome mnemonico tramite un sito di DynamicDNS come ad esempio offre noip.com Però in ultimo è importante segnalare che alcuni internet provider come ad esempio Fastweb per risparmiare ulteriormente il numero di IP pubblici adottano un sistema detto doppio NAT rendendo quindi impossibile accedere a un dispositivo da una rete diversa rispetto a quella locale e costringendoci o a pagare il prezzo di un IP pubblico oppure a usare un server esterno come ponte che però è una strada percorribile solo da persone che hanno una certa confidenza con la programmazione di reti di calcolatori Con questo abbiamo concluso la nostra panoramica sul protocollo NAT Vi ringrazio per avermi seguito Un saluto da Valerio